Vetrine aperte e illuminate almeno fino a mezzanotte d'inverno e d'estate. A rilanciare la proposta è il presidente di Asconfidi e Asconservizi, Sulmona Claudio Mariotti. Se da avere il centro storico di Sulmona è il primo biglietto da visita per i turisti, Mariotti insiste sull'esposizione della merce e su un'estetica uniforme, tornando anche sul tema dei negozi sfitti che devono essere lasciati in ordine anche se chiusi. Le vetrine aperte e illuminate fino almeno a mezzanotte all'ora del passeggio, sia d'inverno che d'estate perché, come si dice, la merce esposta per metà è già venduta. Se però si abbassa, ci si chiude poi in questi negozi e non si ha neanche la possibilità di far vedere, di far visionare i loro prodotti. Sulla proposta lanciata al Comune di adottare un'ordinanza contro il degrado dei negozi sfitti, Mariotti si pone sulla stessa lunghezza d'onda. Ma questo era già un messaggio che io feci arrivare all'ex sindaco, cioè quello di avere un incontro tra le associazioni e i proprietari dei negozi per far sì che questi negozi, anche se chiusi, mantenessero una certa dignità, un certo decoro, perché altrimenti attraversare un corso dove saracinesche abbassate, vetrine sporche insudiciate poi da chiunque passa, non è un bel biglietto da visita per Sulmona. Di attività sfitte se ne contano 39 dall'arco di Porta Napoli a Piazza Carlo Tresca, di cui 28 solo nella zona sud del corso da Porta Napoli a Piazza del Carmine.